segui la 7 anche su instagram la 7 ovunque con te comunque il blocco quello della nato tutti i paesi della nato sono partecipi se non c'è la sigla nato che cosa importa sono paesi nato noi abbiamo bombardato l'iraq abbiamo bombardato la libia abbiamo bombardato la anche di più se il buon nostro friedman i suoi le sue faccine avessero fossero argomenti avremmo ciccerone qua ma abbiamo solo friedman non è poco non si offenda andiamo avanti di battista cosa risponde ambasciatore minuto rizzo